Un caro saluto da Mario Giuliaci. Qual è secondo voi la stagione più piovosa in Italia? Ebbene è l'autunno con circa 220 mm all'anno e la tendenza negli ultimi 20 anni ha un incremento della piovosità autunnale, non perché aumentano i giorni piovosi ma perché aumenta la quantità di pioggia in un singolo evento. La seconda stagione più piovosa ebbene è la primavera con circa 170 mm in un anno, anche qui la tendenza a un aumento della piovosità nel corso degli ultimi 20 anni. La terza stagione più piovosa è l'inverno con 160 mm mediamente nei 90 giorni invernali con tendenza però a una diminuzione della piovosità. La meno piovosa ovviamente all'estate è appena 100 mm in un anno. Perché? Ma perché in estate sono aumentati gli anticipi coloni, soprattutto quello nordafricano, quindi le perturbazioni non arrivano e quindi piove di meno che nel passato. Termino qui un caro saluto ancora da Mario Giuliaci. Ciao! 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 Ciao!